E' un'alfetta che di fatto scorta il bambino verso la grotta e lo riporta poi verso l'umanità, è un po' questo il simbolo. Si è impantanata nel muschio e ne uscirà comunque, è resiliente. A scortare la natività quest'anno ci penserà un'auto dei militari dell'arma. Si tratta dell'originale idea dei carabinieri della compagnia di Bibiena che hanno allestito una presepe tra tradizione, ironia e attualità. Diciamo sempre la caserma e la casa del carabiniere ed è un po' la casa poi alla fine di tutti perché qui vengono tante persone per svariate necessità e abbiamo pensato anche qui da noi di allestire un presepe che in un certo modo richiamasse sia la nostra attività, infatti la scena principale è dominata dalla grotta della natività che è proprio all'ingresso del comando compagnia e poi a degradare verso l'esterno una serie di attività un po' quotidiane e un po' meno quotidiane dalla pasticceria fino addirittura al dentista e al chirurgo estetico proprio perché abbiamo voluto in qualche modo dire che intorno ai carabinieri ruotano tantissime realtà ognuna degna della propria considerazione. E in questo 2020 non poteva mancare un omaggio anche ai sanitari. L'infermiere e l'infermiere a domicilio, ecco ci sono venuti in mente i tanti infermieri, le USCA, le persone, il personale specializzato che visitano i malati covid a casa, ecco l'infermiere a domicilio dovrebbe essere da quelle parti, vuole richiamare un po' questa dinamica che è tutta del 2020 e si spera che vada in qualche modo a cessare col 2021 e a seguire. Qual è il messaggio che volete mandare con questo presepe in un Natale così particolare? Semplicemente quello della presenza. È Natale anche qui, mi ricordo una canzoncina di quando ero un po' più piccolo io. È Natale anche qui, è Natale al comando compagnia, il comando compagnia, i carabinieri, è casa veramente di tutti. Grazie per la visione!